bentornato guti e bentornata eccoci giunti alla duecentesima lezione in questa ultima decade andiamo a vedere il pre ripristino e post ripristino ossia le linee guida che dobbiamo applicare quando si decide di ripristinare formattare o aggiornare un computer quindi un impegno abbastanza importante questo perché all'interno del sistema operativo il percorso d'uso che ne farai nel corso dei mesi degli anni da quando hai acquistato il computer o da quando hai installato l'ultima volta il sistema operativo tutto questo percorso fa sì che quando viene verificarsi un evento non richiesto oppure imposto o magari anche per scelta di dover dare una piallata al sistema operativo riportandolo allo status iniziale oppure formattandolo con una nuova versione dello stesso si entra in uno stato di frustrazione di fronte alla domanda ed ora come era imposto tutto come avevo prima un bel problema infatti il lavoro è molto molto importante perché al di là delle azioni preventive di backup dei vari dati sensibili o file importanti si può intervenire cercando di rendere meno ostico il lavoro da svolgere anche se è molto corposo quello che elencherò sono delle linee guida del tutto personali quindi mie che ho individuato durante il percorso di crescita nel mondo dei computer negli ultimi due decenni prendile a questo punto e per questo motivo con il necessario distacco attingendo ad esse come punto di partenza come base di appoggio e con la dovuta apertura mentale ed in base alle tue necessità creerai la tua lista di operazioni da svolgere prima o dopo eventuali ripristini o formattazioni per quel che riguarda il pre ripristino il senso è cercare di recuperare tutto quello che la formattazione o il ripristino cancelleranno premesso che questa eventualità sia voluta e non magari che il computer si impalla va in crash e non si avvia più a quel punto dovrai percorrere strade alternative se hai creato ad esempio in precedenza un file immagine del sistema operativo e dei programmi preferiti potrai attingere a questo e troverai già tutto come avevi impostato al momento della creazione ma dovrai sì solo aggiornare alle nuove versioni programmi installati se però il file immagine è datato molto datato questo non sarà conveniente perché avrai una versione vecchia del sistema operativo soprattutto perché dalla nascita di windows 10 circa un paio di volte l'anno la microsoft esegue un aggiornamento importante dell'intero sistema operativo come se fosse un nuovo sistema operativo quindi a te la scelta se impiegare o meno questo file immagine in caso di azione di ripristino o formattazione invece la lista della spesa è presto elencato e andiamo con ordine in primo luogo premesso che devi sempre utilizzare una partizione dedicata per certi dati fai una copia di tutti i documenti immagine video file vari che troverai nelle cartelle che verranno rimosse o aggiornate come quelle del desktop la cartella documenti immagini video musica download eccetera quindi quelle accorpate al sistema operativo fai anche una lista di programmi che hai installato esegui una copia dei driver delle periferiche se sei messo sai dove andarli a prelevare altrimenti usa programmi di terze parti per ogni browser potrai esportare le impostazioni i segnalibri pulsanti di accesso rapido quelli che vengono chiamati speed dial la lista dei feed rs a cui sei sottoscritto sei iscritta ed eventualmente i file dell'ultima sessione se ti necessita fai anche una copia di backup delle tue email ed esporta la lista dei contatti e delle impostazioni se utilizzi un programma di posta elettronica installato sul computer fai anche un backup dei dati di tutti i programmi che memorizzano lo stato di avanzamento dei tuoi lavori e del loro utilizzo come può essere ad esempio un gioco in cui ha raggiunto un determinato livello o un programma di chat trascriviti anche i plugin e le estensioni installate nei vari programmi nei vari browser a questo punto scarica di anche l'ultima versione dei programmi di sicurezza che vorrai reinstallare per iniziare a navigare subito protetto a ripristino o alla formattazione scarica a questo punto anche i programmi che dovrà installare aggiornati alla ultima versione se utilizzi i programmi di file sharing salva i file temporanei del programma per non dover impazzire a sapere cosa stavi scaricando e per non dover ricominciare da capo il download se hai acquistato programmi licenza trascrivi i loro seriali per reimportarli trascrivi anche eventuali password delle tue connessioni e segna eventuali credenziali di accesso ai vari siti e o programmi che ne necessitano individua ed archivia le impostazioni del sistema operativo almeno delle sezioni che ritieni più importanti come i programmi preferiti gli avvisi elettivi per le estensioni protocolli eccetera individua trascrivi o esporta come vuoi tu se possibile le impostazioni dei programmi che utilizzi e della scheda grafica come ulteriore aiuto puoi eseguire uno screenshot del desktop per ricordare ciò che era presente sullo stesso come collegamenti eventuali cartelle e anche della pagina della lista dei programmi installati accessibile dal vecchio pannello di controllo e programmi funzionalità qui rappresentato un esempio che ti può far meglio capire cosa intendo in modo da attingere ad una lista molto più rapidamente ormai inizia a far droneggiare bene il computer e il sistema operativo quindi troverai alcuni dati da esportare o copiare per importarli in seguito in queste due cartelle che troverai all'interno del corpo del sistema operativo dopo aver evidenziato anche le cartelle nascoste come vedi le azioni da eseguire prima di mettere in mano il sistema operativo sono imponenti ma tutto ciò è necessario se vorrai dar continuità al tuo lavoro partendo dall'ultima configurazione globale sulla quale stavi lavorando se invece era un computer di sola navigazione o utilizzo di programmi non molto importante potrai ovviamente alleggerire tutto quanto appena espresso fatto ciò dopo un'intensa attività di backup potrai agire nella formattazione come sei maestro e dopo avrai un windows nuovo di zecca pronto a installazioni dei programmi aggiornati e delle importazioni delle impostazioni per quel che riguarda invece il post ripristino dopo la formattazione e la reinstallazione dovrai mettere mano alla lista della spesa ripercorrendo al contrario le azioni installa quindi i driver delle periferiche dove il sistema operativo non riesce in autonomia ora windows 10 è abbastanza performante da questo punto di vista imposti i parametri della scheda grafica e delle varie sezioni del sistema operativo dove hai esportato importazioni credenziali file account opterai per una importazione installa le nuove versioni dei programmi e dei browser importando i relativi account plugin estensioni preferiti feed rss le varie sessioni precedenti e quant'altro avrai trascritto per quel che riguarda la post elettronica importerai l'account rubrica e le mail sempre se stai utilizzando un programma di post elettronica installato infine se non è presente credi una partizione per i dati e corre e incolla tutti i file che avrai precedentemente salvato sulla periferica esterna se in precedenza non avevi ahimè una partizione ebbene facciamo il punto della situazione arrivata alla duecentesima lezione senza ombra di dubbio io ti direi che ti sei trasformato o ti sei trasformata in un dominatore una dominatrice del computer perché ripercorrendo a ritroso e tutto il percorso sicuramente avrai imparato molte cose che ti potranno essere utili e a questo punto oserei dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio della guida ossia diventare totalmente oppresso che indipendente e far sì che di fronte ad una qualsiasi difficoltà o mettendo mano alla tua sapienza o mettendo mano al più grande maestro che abbiamo oggi giorno internet con tutorial manualistica e blog vari avrai l'opportunità di svincolarti totalmente dalle persone e raggiungere i tuoi risultati contrastando eventuali problemi che affronterai a questo punto direi che puoi tranciare il gancio di traino dalla guida al computer e gettarti nella mischia per evolverti fin dove la tua curiosità ti spinge bene nell'attesa di vedere come e se eventualmente rimodulare le informazioni che potrò erogare in questo mondo informatico ti mando un forte abbraccio e come sempre un forte saluto ciao a presto da carlo e dalla prossima raggiungere i suoi